Seconda sessione di qualifica disputate dall'International GT Open Ice Toril per il round inaugurale del 2017 confermata la pole position della McLaren ma cambia l'equipaggio e cambiano anche le condizioni meteo la pioggia nella notte è infatto reso da pista decisamente scivolosa con i piloti che hanno iniziato la sessione con Gomerain per poi montare le slick nel finale. Meglio di tutti è andata Duncan Tappi autore del miglior tempo il 1.39.036 che ha preceduto nuovamente sulla prima linea di partenza la Lexus RCF di casa Farnbacher questa volta con Dominic alla guida. Colpo di reni nel finale per la Lamborghini Huracan GT3 del team FF Racing by ACM guidata dal giapponese Hiroshi Yamaguchi che scatterà così dalla terza piazzola a precedere la meravigliosa Bentley GT3 condotta dall'inglese Michael Meadow Quinta posizione per il campione in carica Thomas Piaggi con l'altra Lamborghini Le condizioni della pista sono andate lentamente migliorando favorendo così i piloti che hanno percorso per ultimi l'ultimo giro transitando sotto la bandiera scacchi con il primato doppia pole position quindi per la McLaren che colonizza così il Portogallo Ciao! 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 Grazie a tutti! Ciao! Grazie a tutti.